Nella giornata di oggi, 23 marzo 2020, i carabinieri della tenenza di medicina hanno ricevuto in affidamento alcuni tablet da parte della dirigenza dell'istituto comprensivo Simoni di medicina, perché alcuni genitori necessitavano per l'appunto di questi sistemi informatici per i propri figli, che altrimenti non avrebbero potuto seguire le lezioni online che gli insegnanti stanno ottenendo in questi giorni. Quindi al checkpoint 1 di via San Vitale Ovest, oggi i carabinieri di medicina hanno di fatto consegnato questi tablet ai genitori e i ragazzi già da oggi pomeriggio hanno potuto iniziare ad ascoltare le lezioni, a interagire sulla piattaforma scolastica telematica per essere interrogati, seguire le lezioni e postare i compiti che gli insegnanti hanno dato loro in questi giorni. I tablet erano all'interno della cinturazione e quindi all'interno della zona rossa che sono stati consegnati a genitori di alunni che vivono all'esterno della cinturazione della zona rossa. Per questo è stato necessario l'intervento dei carabinieri.